Quanto ti è fatto piacere essere premiato per il supporto alla cultura musicale popolare italiana nel mondo? È stata una delle soddisfazioni più grandi della mia carriera perché appunto dopo aver fatto una canzone del genere che all'inizio è stata anche un po' criticata, quella del Waffa, poi parliamo sempre di quella, ma dopo quella canzone sono venuti fuori cinque album da ragazzo di campagna. Quindi è un discorso che continua, quando tu vedi che ti arriva un premio da un'università del Massachusetts, diciamo che forse è una delle soddisfazioni più grandi che un autore possa ricevere. Grazie per la visione! Grazie per la visione!